abbiamo iniziato nei saluti vari a parlare di persone avanti nell'età noi siamo avanti, buona parte di noi sono avanti nell'età e stiamo pregando perché le donne giovani un po' di rinnovamento signore però la tua parada dice che coloro che sperano nell'eterno ricevono nuove forze camminano senza stancarsi e corrono senza affaticarsi e questa sera davvero signore che sia una serata di rigenerazione per ognuno di noi vogliamo depositare i pezzi ai piedi della tua presenza e lasciare davvero che il tuo spirito ci rinvigorisca per essere pronti come dice proprio la parola di oggi e rispondere alla tua chiamata ed esserci sempre nel nome potente di Gesù e da subito ci accordiamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo ameno e ti godiamo e ti benediciamo signore per la tua benedità e perché davvero tu ci sei e perché non ci lascerai negli usi grazie signore grazie 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 Il nome è Gesù, il nome di Dio, è una potenza, è giusto di potere, è stato sarà, il nome di Dio, è una potenza, è giusto di potere, è stato sarà, il nome di Dio, è stato sarà. Santo e con il Signore, Santo e con il Signore, Santo e con il Signore, Gesù. Il Signore di Dio è una fortezza, il giusto Signore, Santo e con il Signore, Santo e con il Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la tua fedeltà, Signore. Grazie davvero perché non ti dimentichi di noi. Grazie perché ci esorti a camminare. Grazie perché ci dai nuove forze, Signore. Grazie perché sei meraviglioso. Benedetto tu sei, Signore. Vogliamo lodarti, benedirti e ringraziarti davvero perché senza di Te davvero non riusciamo davvero più a fare niente, Signore. Glorie glorie a te. Glorie glorie a te. Tutto lo di Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia. Nel cielo in battaglia. Pimponici, grande in gloria, grande in gloria, grande in gloria. Glorie glorie a te. Glorie glorie a te. Glorie glorie a te. Glorie glorie a te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ti voglio ringraziare, Signore, a lodare e a benedire per questo indico, Signore. Sentiamo forte che quando ci venite a me, voi che siete affaticati e stanti oppresse, la mia gioia sia la vostra gioia. E allora, Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo per questo indico, Signore. Che stasera sarà festa, dove c'è lo sposo c'è festa. Tu stasera, Signore, Gesù, sei qua proprio al centro della Chiesa, Signore, che già comincia a dirigere la Chiesa, comincia a dirigere tutti gli invitati e prepari già tutto quel vino nuovo, quel vino con Signore che prevedolo cominciamo ad essere a lei. E allora ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo. Vogliamo veramente buttare via tutti questi lavori, tutte queste tristezze, tutte queste mascole di tristezza e essere come quei bambini che cominciano a giocare nell'una parca. E allora grazie, Signore, grazie, ti ringraziamo, ti lodiamo e tutti gli amami. Che la festa comincia, che la festa va avanti. L'odio a te, per esempio, grazie. Signore, ti ringrazio per avermi portato a conoscenza del disturbo di mio figlio, lo stato confusionale, che è stato dovuto all'egrigenza del personale che lo cura. Aiuto a non riprendersi, ti l'odio e ti ringrazio per il tuo amore e per tutto il gruppo di preghiera che mi sta vicino, mi conforta, sempre pregato perché ho finito. Grazie, Signore, l'odio e gloria a te. Grazie. Grazie, Signore, perché il coraggio di lodarti e benedirti quando siamo nella tempesta è veramente il dono della fede, Signore. Signore, noi vogliamo accortarci alla lode della nostra sorella, Signore, e tutti i nostri cuori davvero si uniscano per l'intenzione di suo figlio, perché sappiamo, Signore, che tu metti in mano anche dove sembra che le cose siano impossibili, Signore. Ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore, perché hai fatto scoprire che c'era qualcosa che non funzionava bene. Benedetto, tu sei. Lode e gloria a te. Grazie. Grazie. canzone, e con i cuori pieni di adorazione, noi vediamo un canto, perché ti amiamo tanto. Rivedichiamo il nostro cuore, perché ci hanno fiscati con il tuo amore, completamente adesi, a parte diamo a te, Signor. Non ci sono parole che esprimono la nostra gioia, la nostra amore. E' dedicato a te, e' dedicato a te. Questo canto che noi giochiamo, è frutto della nostra gioia, del nostro amore, sì. E' dedicato a te. Questo canto che noi giochiamo, è frutto di ogni altra cosa, il nostro cuore è dedicato a te. Rivedichiamo questa canzone, che con i cuori pieni di adorazione, noi vediamo un canto, perché ti amiamo tanto. Rivedichiamo il nostro cuore, perché ci hanno fiscati con il tuo amore, completamente adorazione, noi vediamo un canto, perché ti amiamo tanto. Non ci sono parole che esprimono la nostra gioia, la nostra amore. E' dedicato a te. E' dedicato a te. E' dedicato a te. E' dedicato a te. Questo canto che noi giochiamo, è frutto della nostra gioia, del nostro amore, sì. E' dedicato a te. E' dedicato a te. E' dedicato a te. Questo canto che noi giochiamo, ha più di ogni altra cosa, il nostro cuore è dedicato a te. Ma più di ogni altra cosa, il nostro cuore è dedicato a te. ma più di ogni altra cosa il nostro cuore è dedicato a te Sì signore ti rodiamo e benediciamo per il dono che c'è il fatto di appartenerti noi ti apparteniamo perché amando ti ci hai inserito nel tuo regno in un regno nel quale tu sei il re e come abbiamo cantato prima in battaglia, in prodigi, in questa terra tu sei il re il re si prende cura del suo popolo e noi possiamo testimoniare lo signore di quante tempeste abbiamo vinto grazie al tuo aiuto, abbiamo attraversato e vinto grazie al tuo aiuto e quante meraviglie signore possiamo testimoniare nella nostra vita e nella vita delle persone che ci stanno accanto e per le quali abbiamo fatto intercessione e allora grazie Gesù, grazie davvero perché ci sei grazie per essere il nostro re grazie a te grazie a te grazie a te vogliamo continuare a lineaggiare a questa tua malistà il Signore a questa tua regalità tu che sei il re del re tu che invidi i nostri cuori e vogliamo tanto pregarti e ringraziarti grazie papà per questa giornata grazie papà per le persone che ci hanno messo accanto Signore grazie grazie Gesù grazie padre che ti manifesti in Gesù e ti manifesti nello Spirito Santo Signore e vogliamo tanto ringraziarti e benedirti perché tu sei il re nella nostra vita tu sei il re nella nostra storia grande sei tu Signore benedetto sei e vogliamo cantartelo vogliamo cantartelo Signore che tu hai sempre fatto i nostri luoghi dall'amore le nostre colpe hai portato su di te Signore Cristo è fatto come tutto come noi in te amore Signore Dio dell'altissimo, povero dei poveri, vieni a rimorare tra noi. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'altissimo, povero dei poveri, vieni a rimorare tra noi. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, e di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio dell'impossibile, 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 vieni nella tua maestà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, mi hai mostrato l'immagine di un embrione. Una volta e quando una donna ha concepito non lo si comprende immediatamente. E credo che stai parlando parecchie persone qui presenti, Signore. Non parliamo solo di concepimento a livello fisico, io credo che ci sono tanti concepimenti a livello spirituale. E sei tu, Signore, che ci esorta a continuare a ringraziare e benedire, anche se ancora non abbiamo piena consapevolezza e consistenza di ciò che sta accadendo. Grazie, Signore, perché davvero ci ricordi la tua fedeltà. Mi viene in mente la parola che dice che sei tu quello che fa crescere. E in questo, Signore, oggi ci chiede di trovare il poso e che tu stai portando a termine la tua opera. Io ti voglio benedire e benedire e benedire perché sentivo queste parole. Non sia turbato il tuo cuore. E poi la parola angiografia. C'è una persona che deve fare questo esame al cuore ed è preoccupata. Il Signore ti rassicura e ti dice, ho posto la mia mano, vai sicura che tutto si risolverà per meglio. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Confermo quello che hanno detto Daniela e Cristina. Io ho avuto questa parola durante il canto in lingue. In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo, convertitevi perché il regno dei Cieli è vicino. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ho sentito anche le parole, il deserto fiorirà. Come se proprio il Signore sta arrivando, come diceva Daniela, c'è qualcosa che Lui sta preparando. E diverse persone sono ancora in questo deserto e aspettano perché sanno che il Signore ha promesso. Il Signore sta arrivando, non questo dice la parola che ho ricevuto, ho sentito che il deserto fiorirà. E ho sentito anche, come ha detto Cristina, la parola rivolta a dei cuori che sono un po' tormentati durante questa attesa che, non so, sono convinti delle promesse che il Signore ha fatto e però ancora non vedono pienamente questi risultati, queste promesse compiute e ho sentito il Signore che diceva proprio io metto la mia pace nel tuo cuore durante questa attesa. Proprio tutte le promesse si compiranno e però durante questa attesa anche la sua pace. Grazie. Ti invito a dare serenità al tuo cuore, tu che sei turbata, tu che stai pensando a tutte quelle situazioni di delusione, le ferite che hai subito, ti invito a deporre l'ascia di guerra e mettere la spada della parola ma soprattutto il perdono. E attraverso il perdono troverai pace, serenità e tranquillità nel tuo cuore. Grazie a te. Confermo le preglie dei fratelli perché io sentivo il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? E poi ho avuto l'immagine di un esercito che si schierava contro di noi ma guardando meglio non era reale, era un miraggio che svaniva all'orizzonte non appena dichiaravamo queste parole. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Io ho sentito una parola, diceva, oh Dio mammona, oh Dio mammona. L'altra volta qualcuno mi fa, ma tu metti Dio al primo posto? Ma sì, i tuoi cari, la tua famiglia, prima viene Dio perché comunque Dio poi tocca il cuore dei miei cari, passano tutti attraverso di Lui. Quindi al primo posto io voglio mettere te Gesù, voglio mettere te Dio, perché tu puoi toccare il loro cuore, di tutti i miei cari, di tutti i miei amici, anche dei miei nemici. Grazie Gesù, l'Odra. Grazie. Io ho sentito nel cuore, non voi avete scelto me ma io ho scelto voi. Se questa sera sei qui non è un caso. E ti ringrazio Signore per questa parola di incoraggiamento. Grazie. Alleluia Signore. Certo è che questa sera ci stai esortando a fidarci di Te. A fidarci di Te e ad affidarci a Te ancora un'altra volta Signore. Cosa dobbiamo fare noi? Forse la religione ci dice che dobbiamo fare tante cose. E tu invece attraverso il tuo cuore dice se credi vedrai la gloria di Dio. Dillo al tuo fratello e a tua sorella. Se credi ti vedrai la gloria di Dio. Se credi vedrai la gloria di Dio. Signore quindi ci stai esortando ad avere un nuovo passo. Come ho detto siamo seduti ma ci stai esortando ad avere un nuovo passo nello spirito Signore. Il passo della fede. Vogliamo fare dei passi sostanziosi questa sera. Entrando proprio in questa nuova visione Signore. La visione che ci stai dando il tuo spirito Signore. Perché ci stai conducendo dove tu hai già preparato qualcosa. Grazie Signore. Benedetto tu stai. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Semplicemente credi Ogni cosa è possibile Ogni cosa è possibile Semplicemente credi Semplicemente credi Tu vedrai la sua gloria Tu vedrai la sua gloria La sua parola è la verità Non importa ciò che vivi Nella tua realtà La verità è la sua gloria Non c'è cosa impossibile Che Dio non possa amare Semplicemente credi Semplicemente credi Ogni cosa è possibile Ogni cosa è possibile Semplicemente credi Semplicemente credi Tu vedrai la sua gloria Tu vedrai la sua gloria Semplicemente credi Semplicemente credi Ogni cosa è possibile Ogni cosa è possibile Ogni cosa è possibile Tu vedrai la sua gloria Semplicemente credi E' il tempo che i nostri occhi vedano E vogliamo dirti E vogliamo dirti In questo momento Dal profondo del cuore Signore Siamo pronti A vedere Ci sono cose Che non potevamo vedere In un certo tempo Signore Ma tu ci stai preparando Per vedere le cose A tempo Ogni Questo è il tempo Signore Semplicemente credi Signore Semplicemente Vedrai la tua gloria Nel nome potente Di Gesù Semplicemente credi Semplicemente credi Ogni cosa è possibile Ogni cosa è possibile Semplicemente credi Semplicemente credi Semplicemente credi Tu vedrai la sua gloria Tu vedrai la sua gloria Non vedrai la sua gloria Grazie Grazie Signore Perché Prego Laura Per vedere la tua gloria Signore Abbiamo bisogno Degli occhi nuovi Che arrivano anche A verso la verità Che è nella tua parola E questa sera Laura ci introdurrà Grazie 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 Allora Anche stasera Io ho pregato Prima di Appena venire La comunità Che ha venuto Di vivere E il Signore Mi ha ispirato Di parlare di Giodeone Che non è Il mio personaggio Preferito Tra le altre cose Però Io sono Sicura E convinta Che lui L'ha fatto anche Proprio per parlare Personalmente A mio cuore Non so se lo conoscete È un personaggio Del libro dei giudici Il libro dei giudici È un libro Possiamo dire Un corfanello Perché non viene quasi Mai letto Durante Durante Ma anche perché È un libro In cui succede Di tutto E di più Cioè Io vi consiglio Di leggerlo Perché In questo libro Dio usa Tutte le persone Possibili e immaginabili Ognuno è in modo Personale Cioè Dio non si ripete mai Usa queste persone In modo Estremamente personale E quelle che tu Non diresti Mai Ma proprio Mai Da Donne come Ad esempio Deborah O addirittura Donne straniere Che Arrivano ad uccidere Il capo dei vici Al posto Del generale Che dovrebbe farlo A Il nostro amico Gedeone Adesso vediamo Il libro Dei giudici È messo Dopo Il libro Di Giosuè E Prima Dei libri Di Samuele Va detto Questo per capire Un attimo Il contesto E vi devo dare Qualche informazione Sul contesto Perché se no Le cose Non sono Molto chiare Giosuè È morto Il popolo È entrato Nella terra promessa Però La prima generazione Di coloro Che erano stati Nel deserto Che avevano conosciuto Giosuè Che erano Entrati Nella terra promessa Quindi avevano fatto Esperienza Delle grandi meraviglie Che il Signore Aveva compiuto Erano tutti morti E quindi Non appena Questa generazione Di testimoni Che aveva visto Di persona Questi prodigi Muore Il popolo Inizia a sviarsi E questo Secondo me È un messaggio Anche per noi Vuole dire Che abbiamo Sempre bisogno Tutti Di un'esperienza Personale Con il Signore Non ci può essere Sempre qualcun altro Che ce la racconta Perché altrimenti Il primo venuto Ci può Sviare Ed è quello Che succede A popolo di Israele Il popolo di Israele È un volatiliso In tante tribù Che litigano Tra l'altro Continuamente Le une contro Le altre E popolo di Israele In questo periodo Si contamina Spesso Con culti stranieri Si dice In questo libro Si prostituisce Anche questo termine È significativo Perché La relazione Con Dio Viene concepita Come un matrimonio Una relazione D'amore Dove Necessariamente Non ci può essere Spazio Per nessun altro Perché Dio È il tuo innamorato E tu Popolo di Israele Ma in questo caso Noi Siamo I suoi innamorati E Non siamo Sostituibili In questo contesto Si ripete Molte volte Uno schema Cioè Il popolo Pertà Si svia Poi Dio Manda Un nemico Manda Una situazione Difficile Giudice Questo viene chiamato Colpo Poi Il popolo Grida E viene mandato Un liberatore E poi C'è un periodo Di pace Questo liberatore È il giudice Giudice Non si intende Una persona Che giudica I reati Ma è un governatore Potremmo dire Un capo Una guida Una persona Una specie Diciamo Di supereroe Che viene scelto Da Dio E che Libera il popolo E da Vene in pace Uno di questi È il nostro Gedeone Quando arriva Gedeone Quando Dio Ha mandato Contro il popolo Di Israele Ma viene Chi Sono tremendo Sono un popolo Di razziatori Che quando passa Prende E Distrugge Tutto quello Che trova E porta via Siamo Nel quarto Cosunto Della storia Adesso Vediamo Quando Dio Chiama Gedeone Io vi darò Dei brevi Come dire Dei brevi Riferimenti Vi leggerò Per l'intero Solo la chiamata Di Gedeone Che secondo me È molto Importante Quindi Contesto Sono arrivati Madiene Che hanno fatto Un disastro E l'angelo Del Signore Va a chiamare Perché il popolo Ha gridato Al Signore Il Signore Che lo ascolta Va a chiamare Gedeone Ora L'angelo Del Signore Venne a sedere Sotto il tervento Di Ofra Che apparteneva A Ioas A Biere Zita Gedeone Il figlio Di Ioas Batteva Il rano Il tino Per sottrarne I maglialenti L'angelo Del Signore Ve a parte E disse Il Signore Con te Uomo Forte E valoroso E già qua Ci dobbiamo Fermare Perché Lui Stava Battendo Il grano Ma di solito Il grano Si batteva All'aperto Potremmo dire Su una specie Di piazzale Ma lui Ha paura E lo sta battendo Nei commentari Un cercato In una specie Di puzzetto Quindi immaginatevi Uno Che è spaventato A morte Sta battendo Il grano Per sottrarne I maglialenti Ma è nascosto Nascosto In una specie Di roccia Che compare L'angelo del Signore Che gli dice Uomo forte E valoroso Sembra Troppo Io sono andata A male Su questo verso Il parmetà Perché sono andata A cercare L'ebraico Vole a dire Qualcos'altro Cioè Ci sarà Un altro significato Della parola No no C'è solo Cioè Uomo forte E valoroso E quello che intende Dio L'angelo del Signore Che poi Alca E Dio Come Come vediamo E allora Dio Può mentire Mi sono chiesta No Assolutamente no Però questo È molto importante Anche per noi Perché La parola Di Dio È un seme Che ci viene Consegnato Ma nel momento Che lui Ce lo consegna Non solo sa Che seme è Ma è come se Lui Lo vedesse Già Maturato Già Germogliato Già Spuntato Perché Per Dio Il tempo Non esiste Ed è questa Parola Che tu ricevi Che ti rende Forte Valoroso Ti rende tutto Quello Che questa parola Dice Ed è incredibile Mi sono ricordata Anche Quando sono andata D'anno scorso All'uffizia A Firenze C'era un'annunciazione Bellissima In cui si vedeva L'angelo Maria E dall'angelo Che aveva A bocca aperta Traducivano Delle parole Che non solo Erano disegnate Cioè Giovici Maria Ma avevano Anche un rilievo Erano stesse Come per dire Che lei È letteralmente Colpita Investita Investita Da queste parole Che anche se Tu non le vedi Sono molto più concrete Della stessa In cui tu Sei seduto E Non so a voi Ma a me è capitato Diverse volte Che io mi dicesse Delle cose Sul mio conto E io le ho ridimensionate E dicendo Vabbè Ma Dio è gentile Dio è quello buono Lo sappiamo È quello Insomma Tutto carino E gentile No no Sta dicendo Quello che intende Parola per parola E vediamo La risposta Di Gedeone Signorino Se il Signore È con noi Perché ci è capitato Tutto questo Dove sono Tutti i tuoi prodigi Dei nostri pari Ci hanno narrato Dicendo Il Signore Non ci ha fatto Forse uscire Dall'Egitto Ma ora Il Signore Ci ha abbandonati E ci ha messi Nelle mani di Madian Allora Il Signore Si volse E gli disse Va con questa forza E salva Israele Dalla mano di Madian Madian Non ti mando Forse io Cioè Sembra una lingua C'è un discorso Tra due persone Che stanno parlando Proprio due lingue Differenti E notate Che lui dice I prodigi Che i nostri padri Ci hanno raccontato Perché lui Di persona Non aveva visto niente Però da adesso Tra Gedeone E il Signore Inizierà Una relazione Loro due Inizieranno A parlare A Avere proprio Un continuo dialogo E la cosa Che mi piace Di Gedeone È che lui Non è Un talebano Una persona Non so come dire Lontana Dalle comuni mortali Che appena Dio gli dice Una cosa Tra l'altro Che gliela fa No Lui Più volte Chiede a Dio Dei segni E Dio Gli dà Questi segni Tra le altre cose E Tra l'altro Mi ha colpito Questo Va Con questa forza Qui sono andata A cercare Nell'ebraico originale Che è il significato Molto bello Perché sarebbe Arach Cammina Procedi Continua Si costante Esercitati Cioè Dio Da un lato Gli dà Questa parola Molto grande Forse Per lui Allo stesso tempo Gli dice Guardate Lo so che sarà Un cammino Passo dopo passo Non ti preoccupare Tu continua Esercitati Prova Riprova E questo Secondo me È un messaggio Anche per noi Che parla La nostra fede Dobbiamo praticarla Ogni giorno Nelle cose piccole Giorno dopo giorno E se un giorno va male Si comincia Sempre In maniera Costante Questa è una cosa Molto Importante Ma nella finita Lui dice Signor mio Come salverò Israele Ecco la mia famiglia È la più povera Di manaste E io sono Il più piccolo Della casa Di mio padre Come sempre Dio sceglie Quelli Più piccoli Quindi Se ti senti Piccolo Se ti senti Non ingrato Sei proprio La persona giusta E non è finita Perché lui Allora Puro un padre pagano Tra le altre cose Cioè È andato a scegliere Proprio la persona Che in teoria Secondo i nostri canoni È la meno Adatta Possibile Perché il padre Di Gedeone L'ha fatto Un altare A Val Infatti Una delle prime cose Che chiede il signore Gedeone Abbatti Questo altare E Gedeone Lo fa Ma di notte Perché di giorno Però lo fa Piano piano È un cammino La storia Va avanti Gedeone Chiede i numerosi Sieni E come vi dicevo Il signore E poi arriva E poi arriva Il momento Della riscossa Cioè Lui dovrà Affrontare L'esercito Di Mania Che è un esercito Enorme Perché In testo Vengono Paragonate Proprio A delle cavallette Quindi Immaginate E lo sciane Di cavallette Che passa E distrugge tutto Si dice nel testo Che Dio Lo riveste E lo riveste Proprio Con un'armatura Del suo spirito Ma poi Gedeone Una cosa Pizzarra Gedeone Aveva Un anno E 30.000 uomini E lui dice No Ne servono di meno Come? Come? E lui Per tre volte Gede Di ridurre L'esercito Fino a un numero Piccolissimo Trecenti Riccito Perché dice La gloria Di questa vittoria Dovrai Spercherò A tutti Che ti viene Da me Sono io Che ti faccio Vincere E ancora Prima che inizi La battaglia La cosa bella E che Dio Gli dice Hai già vinto Ho già messo Maglia Nelle tue mani E gli dice Però Stai paura Di questa cosa Mi è piaciuta Un casino Perché anch'io Sempre Mi è piaciuto Paura Anche se Sendo proprio La voce Di Dio Che mi parli In maniera È molto chiara Alcune cose Faccio fatica A farle Io proprio Non riesco Ve lo devo proprio Confessare È vero Cioè Non riesco E Dio E Dio Gli viene vicino E dice Oh Sei paura Però Prendi Il tuo servo Pura Entra E nascosto Nell'accampamento E avrai Un altro Segno Lui sente Uno dell'esercito Che ha un sogno Premonitore Cioè Uno dell'esercito Che sogna Che sogna Di essere Sconfitto Allora Torna E qui succede Una cosa Veramente paradossale Secondo me Perché Lui dispone Trecento uomini Un corno All'accampamento Di Maria E ognuno Di questi uomini Aveva un corno In mano E un'anfora Nell'altro Nell'anfora C'era una luce Prima Fa suonare Il corno Poi fa spaccare L'anfora E nell'accampamento L'inico Prima sentono Questo suono Fortissimo E poi Questa luce Improvvisa E i mici Completamente Sconvolti Si uccidono Contro gli altri E ad alcuni E alcuni scappano proprio Cioè Lui non deve neanche Sguagliare la spada Per affrontarli Ma ci rendiamo conto I modi Che usa Dio Per agire A me sta cosa Ma mi ha scioccato Fa un po' Con il libro Di giudice Pieno di queste cose E lui capisce Veramente Che la gloria È del Signore Certo Lui Ha avuto la fede Comunque Di fare quel passo E' vero Che era stato Rassicurato Però Un metodo Del genere Per vincere Una battaglia Io non l'avevo mai sentito Sostanzialmente E non solo Lui vince Ma sarà Uno dei giudici Con più fortuna Diventerà Una specie di re Con 60 mogli Dot Concubini E renderà Per 40 anni 40 anni Di pace 40 è un numero Simbolico E niente Credo che Dio mi abbia chiesto Di parlarvi di lui Per dare un incoraggiamento Non dipende Dalle nostre forze Veramente Dipende Dalla sua parola Dalla sua fedeltà E dalla relazione Che abbiamo con lui Che va coltivata Giorno dopo giorno Nelle cose piccole Veramente Nelle cose piccole E la cosa Bella È che Gedeone Viene ricordato Come un esempio Di uomo di fede Proprio nella lettera Agli ebrei In ebrei 1232 Si dice proprio E chiederò ancora Ci mancherà Per tempo Se volessi Navarare di Gedeone Di Baracca Di Sansone Di Efe Di Davide Di Samuel E dei profeti I quali Per fede Conquistare Gedeone Etercitavano La giustizia Conseguirono Le promesse Chiusero Le facce E dei toni Spessero La violenza Del fuoco Scamparo Al taglio Della spada Trassero forza Dalla luna Debolezza Penso che questo Sia un grande Incoraggiamento Anche per noi Possiamo veramente Travere forza Dalla nostra Debolezza E un'altra cosa Gedeone È stato chiamato Quando non stava Facendo niente Di particolare Nella sua Quotidianità Normale Anche questo Penso vada Sottolineato Io sono una fan Di Joyce Meyer Ve lo dico E lei Lei racconta È una delle più grandi Predicatrici Donne Esistenti Spiricando In modo da sentire Qualche suo Spermone Su Youtube E lei dice Che ha sentito La chiamata Propra del Signore Per stare Facendo il letto Lei stava Facendo il letto E ha sentito Nel suo cuore Che lui diceva Guarda Tu porterai Il mio Vangelo In tutto il mondo E così È stato Grazie Signore Quali sono i tuoi Magianiti Qual è il problema Che hai da mangi L'affrontare Può essere Una malattia Possono essere Dei pensieri Sbagliati Può essere Nel rapporto Relazionale Il lavoro Il denaro Qualsiasi cosa Ognuno sa In questo momento Signore Ci stai esortando Ad ascoltare La tua voce E a vincere Questa battaglia Che hai già vinto Tu per altri Signore In modo divino Davvero Questa sera Ci stai facendo Fare un salto Di qualità Signore Ci sciogli Da ogni misura Umana Da ogni considerazione Umana E ci stai Conducendo Davvero In una visione Divina Signore E quindi Per gli altri Questa sera Pregheremo Perché ognuno Di noi Entra in questa Visione Signore E questa Fede Questa piccola Fede Posta davvero Impastare La pasta Di tessuto Dove tu L'hai posto Signore E accendere Tanti cuori Signore Ricordando Che tu Sei il Signore E che a te Non è impossibile E che a te E che a te E che a te Fido me stesso con ciò che sono per te, Signore. Il mondo vivo e nelle tue mani io sono tuo per sempre. Io non credo in te, Gesù, io altro tempo a me, Signore, è per te che io vivo, per te io canterò. Io non credo in te, Gesù, io altro tempo a me, Signore, è per te che io vivo. Nelle tue vie, nelle promesse, per sempre me. Io non credo in te, Gesù, io altro tempo a me, Signore, è per te che io vivo, per te io canterò. Io non credo in te, Gesù, è per te che io vivo, per te io canterò. Io non credo in te, Gesù, io ti amo. Io ti amo, io ti amo. Io ti amo, io ti amo, io ti amo. Io ti amo, io ti amo. Io credo in te, Gesù Adesso credo a te, Signore Per te che io mi provo Per te io cambierò Io credo in te, Gesù Adesso credo a te, Signore Per te che io mi provo Per te io cambierò Io credo in te, Gesù Adesso credo a te, Signore Per te che io mi provo Per te io cambierò Io credo in te, Gesù Io credo in te, Gesù Io abbrotendo a te, Signore È per te che io mi provo Per te io cambierò 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 di essere mortali, egoisti, pensavamo che tutto dipendeva da noi, Signore, ma poi arrivato a un certo punto della nostra vita, Signore, ci siamo resi conto che noi non avevamo niente, eravamo spenti, Signore, pensavamo di essere forti, mi eravamo deboli, pensavamo di essere ricchi, Signore, mi eravamo poveri, da quel momento che Tu, Signore, hai riposo la Tua mano e c'hai scelti e c'hai invitato di seguire, Signore, noi prima abbiamo un attimino tentennato perché pensavamo che sto uro qua che ci diceva, vieni, seguimi, ma chi è? Poi ci siamo resi conto, Signore, che Tu sei proprio il Re del Re che ti sei fatto piccolo in mezzo ai poveri, Signore, e la cosa bella è che noi ci siamo resi conto della Tua grandezza attraverso quella della Tua piccoletta che ti sei fatto piccolo in mezzo a noi, Signore, e allora ti vogliamo ringraziare e lotare e benedire, Signore, per questo momento che hai aperto i nostri cuori, per questi momenti, Signore, che ci hai fatto conoscere cosa vuol dire amare, amatevi come vi ho amato cuore, fino alla morte, Signore, e allora ti ringrazio, Signore, perché è vero, se noi non moriamo in noi stessi, Signore, su tutte quelle cose materiali che ci portano lontano da Te, non riusciamo a capire cosa vuol dire essere figli, non riusciamo a capire cosa vuol dire essere i Tuoi testimoni, e allora ti ringraziamo per questa serata, Signore, perché veramente stasera, Signore, Tu hai toccato a ognuno di noi i nostri cuori, quel cuore, Signore, che pensavamo di essere ma chissà che cosa. Comunque ti ringraziamo, ti dobbiamo e ti bendiciamo. Grazie, Gesù. Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di Lui. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in Lui, ma non li conoscevano apertamente a causa dei franisei, per non essere spursi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini e più della gloria di Dio. Gesù allora gridò a gran voce, chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede chi colui che mi ha mandato. Io come luce sono venute nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Giovanni 12, 41 e seguenti. Grazie, Gesù. Signore, ti ringrazio questa sera perché ci hai chiamati qui a godere della tua presenza e in questo momento non riesco altro che dirti grazie perché sto sperimentando e penso anche a tutte queste persone quell'amore e quella tenerezza che tu hai per ognuno di noi. Ci prendi per mano come bambini e ci conduci là dove non vogliamo andare, ma dove tu sai che è importante andare. E allora questa sera ti chiedo per me e per tutti questi fratelli di diventare delle lampade, delle torce là dove c'è buio, dove c'è freddo, dove non c'è la tua luce. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. io ti benedico perché mettiamo che voglio vederlo come un segno profetico Signore che siamo in ascolto Signore io ti voglio ringraziare per questa serata che davvero viene a scuoterci quello che oggi nel Vangelo era la chiamata di Matteo Signore anche lui era lì e stava facendo quello che stava facendo e Gesù gli ha detto seguimi segui me segui me segui me ha detto Gesù non una persona non una dottrina non un pensiero non quello che credi tu non quello che speri tu segui me e rubi nella nostra vita in un modo fantastico davvero ci stravolgi di grazia Signore viene a toccarci e viene a tagliare quelle radici Signore che ci hanno tenuto per troppo tempo legati in contesti e situazioni che non avevano il diritto di legarci Signore e magari anche persone chissà io ti voglio benedire per questa serata di liberazione Signore conoscere te la verità e la verità vi farà e questa è una serata di liberazione Signore vogliamo davvero prendere quel coraggio che forse non abbiamo come Gedeone ma solo il fatto stesso che tu ce l'hai detto questa sera Signore questo coraggio è stato ridersato nel nostro cuore lo Spirito dice lo Spirito vi darà uno spirito di coraggio Signore non di timidezza anche perché questi fratelli possano davvero trovare il coraggio di portare tutte quelle benelodiche che hanno nel cuore e condividerli con i fratelli Signore io ti benedico per l'opera che sta iniziando oggi che magari i nostri occhi fisicamente non lo vedranno immediatamente ma voglio già glorificare Dio Signore perché tu hai già compiuto quest'opera di liberazione di guarigione di ogni cosa che è necessaria Signore e davvero mirabilmente le vorremmo ringraziare tutti insieme Signore che tu sei il Signore e porti sempre a termine le tue opere e sei fedele Signore per il atto che tu stai signori Grazie 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 a poco ponte di te che di e tra via sulle acqua insieme a me sulle acqua insieme a me ti dico vieni e cammina sulle acqua insieme a me non fallirai non fallirai io ti conturo e ti segnerò la via dove tu camminerai insieme a me e riprenderò e una mano testa e ti proteggerò e guarderò a tuo modo che mi crede che mi che mi che mi che mi che mi che mi Dijon Dejan mi Su legato insieme a me No facci来 No facci来 Dijon Dejan mi E camminare Su le haue insieme a me Su le haue insieme a me Vivo che di E camminare Su le haue insieme a me Vivo che di Vivo che di Vivo che di Non far nido, non far nido Non far nido, non far nido Non far nido, non far nido Grazie Signore, ti ringraziamo per il tuo seguimento Signore, noi sappiamo che tu non sei un concetto, non sei un'ideologia non sei un'immaginetta, tu sei il Dio con noi tu sei l'Emmanuele, tu sei una persona e allora ti benediciamo Signore per ogni occasione in cui ci hai fatto fare esperienza della tua presenza, del tuo amore perché su questo si radica la nostra fede, la nostra piena fiducia in te Signore anche quando non vediamo, anche quando siamo magari delusi ma Signore, noi abbiamo fiducia in te Signore camminiamo sulle acque con te Signore perché sappiamo che tu sei persona, tu sei presente, tu sei il Signore e tu ci ami e ti prendi cura di noi di questo Signore possiamo testimoniarlo e questo fa la differenza l'ora e gloria a te Signore e grazie Signore anche per il primo Giovanni versetto primo Giovanni 3, dal 1 a 3 vedete quale amore il padre ha confuso tutti i nomi facendoci chiamare figli di Dio la ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui carissimi, ora siamo figli di Dio ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è grazie Signore lo so che sono antipatica quando faccio così però lo sento che lo devo fare io sento che qui alcune persone hanno ricevuto dal Signore a compiere una chiamata particolare a compiere qualcosa di particolare il Signore ti sta dicendo che questo è il tempo maturo se tu hai il coraggio sono più di una persona ti dito ad alzarti solo e dirgli eccomi come ha detto Maria sono la serva del Signore si colpia in me e la tua volontà io ci sono Signore eccomi se ve lo sentite alzatevi e vedete al Signore in questo anno Signore tu stai mettendo tutto ciò che serve Signore qualsiasi dotazione potremmo avere dal punto di vista umano non sarebbe mai sufficiente per adempiere l'opera Signore è un'opera divina ma sappiamo Signore che se Dio è con noi chi è contro di noi Signore noi non vogliamo partire se non con Te vogliamo prendere in questo momento questo coraggio e restare fermi ci hai detto in queste parole in questa esortazione in questa promessa Signore Signore io ti ringrazio per questi fratelli che ti hanno detto sì Signore Signore io so che in quest'anno grandi cose racconteremo Signore un piccolo popolo Signore ha mostrato la Tua gloria Signore io so che la mostrerai attraverso di noi Signore noi ci siamo Signore ame Spirito Santo lavora la nostra vita il nostro carattere Signore le nostre fragilità ogni cosa Signore perché di fatto niente è nostro è tutto Tuo Signore e noi dobbiamo essere proprio quel riflesso di essere quei Tuoi figli Signore riflettere la Tua gloria Signore lo desideriamo più di ogni altra cosa benedetto Tu sei Signore perché ci prendi così come siamo nella nostra fragilità piccolezza Signore ma in Te Signore siamo grande cose grazie 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 Volevo un attimino Conformare quello che ha detto Perché ha avuto proprio l'immagine Mentre che adesso pregava la tenera Proprio sotto una montagna C'era una roccia E vedevo proprio il Signore Che invitava a una uova Andare in quella cosa Tutto per fila Ed essere proprio innaffiati Da tutta questa benedizione Da tutta questa acqua Quindi il Signore ancora insiste Di dire venite e seguitemi Non avete paura Grazie a Gesù a me E anch'io conferma Conferma di quello che diceva Daniele Mimmo Sento nel cuore È proprio di Guardare alla parola di Dio Quello che dice di noi Guardarci nella parola come uno specchio Questa sera la parola ci ha detto Ognuno di noi Salve uomo forte e valoroso Salve donna forte e valorosa E quando il mio amico ci dice Non fare niente Non risponderemo Lui mi ha detto che sia un uomo forte e valoroso Mi ha detto che sia una donna forte e valorosa Grazie a tutti Grazie a tutti La parola di Dio Vede te, miracoloso, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. Vede te, miracoloso, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. Tu sei qui, con il cuore mio, adoro te, adoro te. Tu sei qui, con il cuore mio, adoro te, adoro te. Vede te, miracoloso, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. Vede te, miracoloso, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. Vede te, miracoloso, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. Vede te, miracoloso, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. Vede te, miracoloso, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. Luce del buio, sei potente, luce del buio, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. Vede te, miracoloso, sei potente, luce del buio, sei tu, che aprirai in maniera. la pira e la pira fedele, miracoloso, sei potente luce nel buio, sei tu la pira e la pira fedele, miracoloso, sei potente luce nel buio, sei tu la pira e la pira fedele, miracoloso, sei potente luce nel buio, sei tu la pira e la pira amén grazie perché sei tu che apri una via Signore, che l'ha detto tu sei grazie che ci basta solo seguirti e ascoltare la tua voce se davvero comprendessimo le dinamiche nella fede faremmo molta una pratica di quella che realmente facciamo tutti i giorni Signore vogliamo sempre fare la sonda e poi facciamo tutto perché era un caos a me è venuta la pende d'oca oggi perché il Signore ci ha parlato in modo molto forte e specifico e poi adesso proprio anche questi hanno detto che ho la pende d'oca stavo pensando anche l'incontro di sabato il titolo lo sapete qual è? vai nella terra che io inviterò e quindi il Signore davvero stava preparando questo percorso ci sembra che facciamo le cose noi ma poi in realtà è proprio lui che le fai, questo mi rassicura molto grazie Signore davvero grazie che ci ringraziamo per questa serata è stata restata in un atteggiamento di preghiera e sappiamo che il Signore non esce da questa chiesa rimane nel nostro cuore e continuerà a parlarci anche durante i sogni e che in questi giorni siano proprio di preparazione per quello che viene da fare con ognuno di noi Signore perché siamo pronti, il suo popolo è pronto Signore io ti ringrazio, ti dico allora, annunci, primo lo ho già letto sabato ci vediamo dalle dalle 10 al tendone qua accanto ci sarà l'incontro ancora il titolo vai nella terra che io ti indicherò è necessario solo prenotare per il pranzo per il resto se chi ti vuole venire è aperto al pubblico gratuito non deve fare nient'altro che presentarsi solo per il pranzo perché giustamente dobbiamo prenotare i posti in cui mangeremo qui in pizzeria il costo del pranzo completo è di 15 euro quindi se volete venire e portarvi da mangiare a sacco potete farlo tranquillamente non c'è l'obbligo di mangiare giustamente se più siamo è meglio insomma sistemiamo le cose con Antonio che gentilmente ci ha dato il tendone quindi è anche la corrente e tutto il resto però ognuno senta rifare come si sente e continuiamo con un discorso che si che non può fare per la notazione di Montesilvano perché c'è un discorso logistico per il trasporto quindi siccome il Puma comincia già un po' a scarseggiare dobbiamo sapere chi di voi ha deciso di venire qualcuno ce l'ha già detto prima della preghiera e se davvero sentite questo invito nel cuore invito la Marisa questa sera perché appunto dobbiamo organizzare tutto il percorso nient'altro nel frattempo vi chiediamo in modo particolare preghiera per questo convegno quest'anno sapere che Marisa faceva già parte del Consiglio ci sono tuttora anch'io e crediamo che anche per questa associazione sia un tempo un po' risuolta o va e prosegue la gloria di Dio o se le cade per terra ci sono dei percorsi che non possono restare le cose costanti nel tempo perché in realtà niente rimane costante nel tempo anzi difidate di tutto ciò che resta costante nel tempo perché le cose devono andare poi in un senso o nell'altro sono percorsi che continuano e vanno in crescendo altri percorsi che vanno a sciamare e a finire e si interrompono così quindi gloria a Dio per quello che ha preparato restiamo uniti nella preghiera e io sono felicissima ringrazio il Signore perché perché nella preghiera sento che siamo tutti presenti ed è una cosa molto bella e quindi questo non è una cosa irrilevante quindi preghiamo gli perdiati e custodiamo quello che il Signore ci sta fidando in questo momento e quindi ci prego ancora giudici Maria e grazie Signore di te sei l'eterno tra le donne e l'eterno del frutto del tuo Signore di Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi e per noi adesso è l'ora della nostra morte amico Padre nostro Signore di Gesù Santa Maria di Dio e per noi e per noi non sia papà la tua bontà come il cielo come il cielo come il terra giaci oggi in nostro Padre che lo vogliamo e rimetti a noi i nostri letti come anche noi rimettiamo i nostri lettori e non ho la giace per la nazione ma ritornaci dal mare amico benedicati io che Padre figlio e Spirito Santo ora 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 ora